Un giovane amico di nome Ivan, l'altro giorno, su Facebook, mi ha domandato ma perché dai tanta importanza alla filologia quando parli di Gesù? Perché è così importante stabilire, accertare che Gesù abbia detto o fatto, o non detto o non fatto, certe cose? Sì, io penso che sia importante la filologia, ma questo in relazione al lavoro che faccio, al rapporto che ho con il mondo. Io cerco di comprendere cosa diavolo sta succedendo in questi anni, investiti da una grande crisi di civiltà e studio la realtà intera e la rappresento attraverso certe opere di scienza e di arte. Fra gli autori che mi interessano, mi hanno interessato da sempre, c'è appunto Gesù di Nazareth. Uno fra i tanti, non è il solo, ma uno fra quelli che mi hanno colpito di più da sempre. E perché? Beh, uno degli elementi propri di questo mondo in crisi è la persistenza di certe strutture di potere, di certe forme di organizzazione che conservano la divisione fra capi e gregari, fra governanti e governati, fra dirigenti e diretti. Sono strutture verticistiche che tendono a mantenere i diretti in una condizione di obbedienza, di fedeltà, di passività, esecutori di idee pensate da altri. E questo mondo è caratterizzato anche dalla persistenza di regole che tendono a sfavorire la creatività e l'autonomia degli individui e invece a sottometterli, a massificarli, a mantenerli in una condizione di minorità. Ora, questa situazione di questo mondo e di questa crisi che vediamo ha un rapporto con i Vangeli, le opere attraverso le quali ho conosciuto la figura di Gesù. Dentro i Vangeli, però, ecco, questo è il problema che mi accompagna dalla giovinezza, ci sono alcune frasi dette da Gesù e alcuni gesti compiuti da Gesù che indicano la possibilità e la necessità di un mondo di uomini creativi e autonomi e indicano la possibilità e la necessità di strutture di associazioni non verticistiche e non burocratiche e altre frasi e altri gesti che sembrano, invece, spingere nella direzione contraria. Allora, nei Vangeli ci sono due Gesù e allora cercare di distinguerli questi due, cercare di distinguere Gesù di Nazareth, la figura storica e la figura ideologica, Gesù il Cristo, è importante. Prendiamo l'elemento centrale del cristianesimo come religione strutturata e una religione del sacrificio e della Chiesa. La domanda è Gesù di Nazareth aveva in progetto, aveva in idea una nuova religione del sacrificio fondata su una Chiesa e qui entra in campo la filurgia. I cattolici dicono sì, aveva in mente una Chiesa e lo dimostra la frase che ha pronunciato tu sei Pietro e su questa pietra fonderò la mia Chiesa ma è una frase pronunciata da Gesù? no tu sei Pietro e su questa pietra fonderò la mia Chiesa è una frase che ha senso in greco linguaggio nel quale i Vangeli sono stati scritti ma Gesù non parlava in greco parlava in aramaico quindi lui non può aver pronunciato questa frase questa frase è stata attribuita a Gesù dai seguaci, dai discepoli, dagli evangelisti da coloro appunto che lo confondevano con Gesù il Cristo e l'idea di una religione fondata sul sacrificio anche questa non è fondata facciamo filologia non di una frase non detta da Gesù ma di un gesto compiuto da Gesù erroneamente interpretato dai cristiani Gesù scaccia i mercanti dal Tempio i cristiani interpretano questo come un atto morale moralistico liberare i rintorni del Tempio dai venditori da coloro che sono interessati al guadagno ma va pensato invece questo gesto in altro modo Gesù scaccia i mercanti dal Tempio perché i mercanti sono coloro che rendono possibile il sacrificio cambiando il denaro e offrendo gli animali del sacrificio rendono possibile appunto il sacrificio Gesù vuole fondare una religione nuova fondata sull'amore non sul sacrificio e quindi scaccia i mercanti dal Tempio è possibile nello stesso tempo individuare alcune frasi sicuramente dette da Gesù di Nazareth certo Gesù di Nazareth e i discepoli camminano in campagna i discepoli hanno fame raccolgono delle spighe ancora tenere di grano e se ne cibano e saltano fuori i farisei e aggrediscono Gesù e gli dicono ma come è sabato e tu lasci che i discepoli compiano delle azioni è proibito dalla nostra legge sacra e Gesù risponde ai farisei il sabato fatto per l'uomo non l'uomo per il sabato ecco dunque che riflettere sulla figura di Gesù considerando attentamente filologicamente ciò che verissimilmente ha detto o non ha detto ciò che ha fatto e il senso che ha dato a quella sua azione ci avvicina alla comprensione della figura di Gesù e ci avvicina alla comprensione della ragione della crisi di questo mondo questo mondo è in crisi appunto perché ci sono ancora enormi masse di individui che sono rassegnati alla distinzione tra dirigenti e diretti sono rassegnati all'obbedienza di regole anacronistiche che li mutilano che li sacrificano e questo impedisce la nascita di una civiltà nuova quindi occuparsi così tanto e così in profondità di questioni filologiche non è una inclinazione accademica ma è un modo di affrontare la conoscenza della realtà così come può diventare e riscoprire figure che questa rappresentazione possibile nuova del mondo l'hanno già anticipata Gesù è uno di questi e va ripensato riconsiderato restaurato come una delle figure del nuovo mondo e di questo è un modo